Dopodichè era bravo, ha fatto l'organistica, dopodichè bisognava accompagnarli, dopodichè bisognava fare qualche riunione in più perché c'era qualcosa da scoprire. Figlio Andrea? Andrea, sì. Poi lo chiamavamo Guaci. Alla fine uno si trova dal 1994 al presidente. Così, perché non voto. L'ho rispugnato molto. È sempre il 94, è sempre il massimo. Sono stati anni interessanti, sensati, perché la ginnastica è uno sport meraviglioso perché è difficile. Grazie mille. Grazie mille.